Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video sintesi di scienze. Prima di vederla invito tutti a iscrivervi al canale La Scienza in un click e ad attivare la campanella delle notifiche. Quando pensiamo ad un vulcano, pensiamo ad una montagna di forma più o meno conica dalla cui sommità fuoriescono materiali fusi ad alta temperatura che chiamiamo magma o lava. In realtà il vulcano nasce da una semplice spaccatura della litosfera da cui i materiali emessi solidificando costruiscono nel tempo l'edificio vulcanico, che potrà essere conico o di altra forma. I materiali presenti sotto la superficie terrestre, come detto, sono allo stato solido, nonostante le alte temperature, per l'effetto della pressione dei volumi di roccia sovrastanti. Quando a seguito dei movimenti delle placche si aprono delle spaccature, l'effetto della pressione viene a mancare e i materiali in profondità fondono per le alte temperature e possono risalire in superficie attraverso la stessa spaccatura, formando l'edificio vulcanico. In questa carta della distribuzione mondiale dei vulcani e degli eventi sismici, ovvero dei terremoti, possiamo vedere che questi si concentrano per la maggior parte nei confini tra le placche e che questa carta è perfettamente sovrapponibile a quella delle placche stesse. Questo avviene perché dove ci sono placche in movimento e si creano dorsali e fosse, le rocce in allontanamento o in subduzione, dato che non sono perfettamente elastiche, si fratturano e si creano quindi le suddette spaccature da cui deriva l'origine dell'attività vulcanica. Possono esserci delle eccezioni con attività vulcanica all'interno di una placca, come nel caso delle Hawaii, isole vulcaniche la cui attività non è associata a margini di placca, ma deriva dall'attività di un punto caldo o hotspot con risalita di materiali molto fluidi direttamente dalle profondità del mantello, quasi al confine con il nucleo terrestre. Vediamo adesso le parti principali che formano un vulcano. Queste sono la camera magmatica o serbatoio magmatico, la riserva di magma fuso presente a profondità variabili e che viene messo in superficie durante l'attività eruttiva. Quando il serbatoio si svuota, l'attività del vulcano si considera estinta. Abbiamo poi dei condotti o camini attraverso cui il magma risale, spinto dalla pressione delle componenti gassose al suo interno, ed uno o più crateri attraverso cui viene emesso all'esterno. Un tipico edificio di forma conica si forma quando le eruzioni successive emettono strati di materiali più o meno fluidi che solidificano uno sull'altro, tanto che si chiama strato vulcano. Non tutti gli edifici vulcanici, come detto, sono a forma di cono. Nelle isole Hawaii troviamo vulcani a scudo, appiattiti e con base larga. In Islanda, a destra, troviamo vulcani lineari perché la lava non fuoriesce da un condotto centrale ma attraverso fessure lunghe e strette. Quando un vulcano entra in eruzione emette materiali allo stato gassoso, liquido e a volte anche solido. I gas emessi da un vulcano sono soprattutto anidride carbonica e vapore acqueo, a volte accompagnati da composti gassosi dello zolfo, in alcuni casi tossici come l'anidride solforosa. È proprio la pressione esercitata dai gas a determinare l'eruzione, perché i gas, liberandosi all'improvviso, trascinano con sé i materiali liquidi e quelli solidi più minuti, proprio come succede quando stappiamo una bottiglia di spumante. Il magma emesso dai vulcani non è altro che una massa di rocce fuse ad altissima temperatura. Una volta in superficie perde gli elementi gassosi e lo chiamiamo lava. A seconda della quantità di silice che contiene, il magma può scorrere più o meno facilmente e liberare gas più o meno facilmente e da questo dipende la violenza dell'attività eruttiva di un vulcano. Da un cratere vulcanico possono fuoriuscire anche materiali solidi. Le particelle più fini, che rimangono in sospensione nell'aria a lungo, sono le ceneri vulcaniche. I frammenti di dimensioni simili a piccoli sassi sono i lapilli. In alcuni casi, se il magma è a lento scorrimento, ovvero è molto viscoso, possono essere emessi frammenti rocciosi di grandi dimensioni o bombe vulcaniche. L'effetto delle ceneri non è da sottovalutare. Nel 2010, la ripresa dell'attività eruttiva del vulcano Eia Fiat Lajecucce in Islanda liberò nell'atmosfera una quantità di ceneri così grande da bloccare per scarsa visibilità nei cieli il traffico aereo in tutta l'Europa centro-settentrionale per intere settimane. A seconda del tipo di magma, l'attività di un vulcano può essere più o meno violenta. Se il magma è fluido, scorre senza intoppi e contiene pochi materiali solidi, abbiamo eruzioni piuttosto tranquille o eruzioni effusive. Questo avviene se il magma è povero di silice, lo chiamiamo magma basico. In questo caso i gas si liberano facilmente e non sviluppano grandi pressioni. Attività vulcanica di questo tipo è quella delle dorsali oceaniche e quella prevalente nelle Hawaii, in Islanda e in Italia prevale nel vulcano Etna, in Sicilia, il nostro vulcano principale. Se il magma è ricco di silice, e in quel caso lo chiamiamo magma acido, scorre meno facilmente, il che si dice che è più viscoso. Contiene materiali solidi e gas si liberano con più difficoltà, producendo forti pressioni ed eruzioni esplosive, a volte talmente violente da cambiare la forma dell'edificio vulcanico o aprire nuovi crateri. La quantità di ceneri prodotte è enorme, tanto da produrre le roventi e distruttive nubi ardenti che ricadono ad alta velocità dai fianchi del vulcano. In Italia il Vesuvio, nella regione Campania, ha un'attività di questo tipo. Le eruzioni più distruttive che la storia ricordi sono quelle di tipo esplosivo, come quella del Vesuvio dell'anno 79 d.C. che distrusse completamente le città di Pompei ed Ercolano alle porte di Napoli, lasciandoci il macabro spettacolo dei corpi di chi è stato sorpreso in casa perfettamente conservati sotto le ceneri consolidate che li hanno travolti. Oppure come quella di epoca precedente riguardante l'isola di Santorini in Grecia, precedentemente occupata da un edificio vulcanico che a seguito di un'eruzione violentissima che ne ha svuotato completamente la camera magmatica, è collassato, crollato su se stesso sprofondando in mare e lasciando la caratteristica forma ad anello dell'isola. Le eruzioni vulcaniche possono anche causare cambiamenti climatici. Nel 1815 l'eruzione esplosiva del vulcano Tambora in Indonesia disperse nell'atmosfera una quantità talmente grande di ceneri da offuscare per svariato tempo la luce del sole, tanto che l'anno successivo fu definito anno senza estate per le gelate e le nevicate che si verificarono anche nel periodo di maggio-giugno in diversi settori degli Stati Uniti e dell'Europa lontanissimi dal luogo dell'eruzione. Per la video lezione completa link in descrizione o cliccando sulla schermata finale. Ciao a tutti e alla prossima video lezione.